Signore e signori, non solo buonasera e bentornati su MarcoPlays, ancora una volta con Tokyo Mirage Session Sharpa Fee Ancora Un secondo che faccio il cambio di sorgente Vediamo un po' anche come va qui, perfetto Allora, la volta scorsa che è successo? Abbiamo continuato ad esplorare il dungeon Volevo dire, abbiamo continuato ad esplorare il dungeon, sì un attivino ho bevuto un pochino, un po' Cacchiata a parte Esplorando, esplorando, abbiamo anche trovato un altro Mirage che voleva aiuto O meglio, il primo Mirage che ci ha dato delle richieste da compiere, da completare per ottenere dei premi E siamo anche riusciti a farlo, andando, povero filtro antipop, andando da una parte all'altra del dungeon Tra l'altro anche con un po' di confusione perché, ahimè, a vedere tutti questi manichini giganti di Maid Da manipolare attraverso interruttori, un po' mi sono confuso Ammetto, forse anche perché un pochino le stanze... No, in realtà cambia il colore, accidente, però mi sono comunque confuso Su, giù, sali, scendi Però alla fin fine abbiamo esplorato e siamo arrivati al punto che dovrebbe essere prima del boss Ora, un secondo che inciampi di mandibola a parte voglio controllare effettivamente come va con la live stream Se è tutto a posto come audio, video, tutto quanto, quindi un secondo Un attimo, toggo il suono del microfono e poi torniamo subito Ok, eccoci qua Quindi il part è stato tutta vita Mi domando, vediamo un pochino, amma mia No, perché a causa di problemi tecnici dello schermo che ho utilizzo solitamente Sto utilizzando un altro schermo che è molto più grande ed è anche molto più luminoso Quindi un pochino non sono abituato Allora, quindi vediamo un pochino per gli oggetti Mamma mia, il bianco Allora, quindi quanti ne abbiamo? Abbiamo soft drink, lifestone, bead, energy drink Quanti ne abbiamo di cleansing olong? Ne abbiamo abbastanza quattro Che curano, sì, perfetto Mi sa che servono un pochino di arrivare al bead Ah no, abbiamo anche frairspice e colori Quindi sì, a posto Sì, 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 sì Eh, ma direi allora che possiamo anche andare Quindi... no, non è di qua Ah no, in realtà è fuori, effettivamente, quindi Ah, vediamo i messaggi anche Che c'è Tsubasa? Le parole hanno un potere molto gentile Sei stato tu di insegnarmelo, Itsuki? E quando esattamente? Con i Whelp e i Tappens? Questa canzone è fatta non soltanto È fatta non soltanto dalle mie emozioni Ma da quelle di tutti Sono sicuro che riuscirà ad arrivare ad Aya Oh me! Emoji motivazionale Usciamo perché dobbiamo effettivamente uscire Quindi andiamo direttamente a Shibuya Vediamo un attimo Andiamo Mamma mia Mi sa che devo ridurre forse un po' Non lo so Quindi No Siamo un po' lontanucci della zona Un po' del disastro Però va bene Vediamo un attimo Qui che ci sta Ah, altri distributori Vabbè, vabbè, non c'è bisogno Dov'è? Ah, è questa la zona Oh, ecco Giustamente Ah, quindi essenzialmente si crea E ovviamente la musica cambia Ma è normale Lo eragio l'altra volta Quindi c'è proprio Un allone di mistero oscuro Una barriera oscura Che Avvolge tutta la zona Giustamente Quindi vediamolo Io, Marte No, abbiamo abbastanza Possiamo anche andare Proviamo Dai, dai, dai Proviamo così Ok Quindi io voglio andare Però Dovrebbe essere per di qua Giusto? Sì, di qua Sì, Tsubasa Ora andiamo Anche perché Noi saremo Dalle parti del boss Quindi Cioè, dalla porta Dalle parti della porta Che porta Ammazza Ammazza Allora Allora Allo scioglilingua Dicevo Dalle parti Della porta Che poi conduce Così evitiamo di fare altri scioglilingua Che conduce Poi verso il boss Allora Quindi per l'appunto No, 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 no Settimo piano Direttamente Che comodità Questi cosi Mamma mia Quanto è bianco Lo schermo Ok Aspetta No Quindi Intanto salviamo Salvare Sì Siamo pronti Andiamo Yosh Come dice anche Tsuki Yosh Mi domando effettivamente Con questo schermo Come possa apparire Il bagliore bianco Che sta in Luigi's Mansion 3 Nel menu Oh Siamo proprio sul tetto Bene Lei è ancora sotto il controllo Giustamente Oh Adesso te lo facciamo vedere Noi Mirage Niente L'ho soltanto liberata Ho Chiuso le orecchie Ecco Per l'appunto Liberata Dalle Da qualcosa Perché è meglio Il niente Delle dolorose verità Tsubasa È il momento Canta per lei Falle sentire le tue emozioni Avanti Non avere paura Avanti Tsubasa Avanti Ok Ok E quindi Avremo Oh Ok Ok Da notare Il cambio immediato Ah non è il cambio immediato Ok ok Quindi È un bagliore Che circonda Tsubasa Il suo performa È il miraggio Ci sono soltanto Di là Non c'è neanche una parola Non c'è neanche un testo Non farti coinvolgere Aia Non farti coinvolgere Nel senso di aia Non di dolore E Attenzione Altro bagliore Madonna Lo schermo Ok Ed è già la seconda volta Che la riconosce Però attenzione Che adesso arriva la miraggio Ecco appunto Non c'era neanche un testo Figuriamoci Se fosse così semplice Vabbè È normale Però almeno Una prima Oh Un altro Oh Eh però aia Sta rispondendo di più Ora Ah cacchio Eccolo il miraggio Lei Ah in realtà Lei Oh Complimenti Aversa Perché essere sotto controllo È meglio Dell'essere liberi Niente più preoccupazioni Penserò tutto io No 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 Tsubasa E vabbè È ovvio Che non bastasse la canzone Però O meglio Non questa No Immaginiamo che non bastasse questa canzone normale Però Avanti Dai 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 ragazzi Ragazzi Appunto E di nuovo E di nuovo il mal di testa Manco fosse Nasuiko Eeeh Qualcosa è rimasto Però la canzone Qualcosa l'ha fatto Non abbastanza Da liberarla Da liberarla Completamente Però qualcosa Ha fatto No No Aia Non ce la fa Dai Aia Ribellati Ribellata Aspè Eh Eeeh Aversa Sta giocando col fuoco Eh Ok Mi dispiace Ma è un po' esagerato Qua Oh mamma Eeeh Il controllo Dove è andato a finire Cacchio Più Efficace Di quanto pensasse Allora Iiii E' il per forma Di Aia Quello Mi sa di sì Mi sa di sì Ok andiamo Ce la fa oppure no Ok liberiamo Liberiamo Così ti impari Aversa Quindi Aia E' liberata Cioè Eh ragazzi Qualcuno pensi però Ad Aia Cioè E' libera Sì ma scusate Io Devo essere sincero Pensavo Che la liberazione Sarebbe arrivata Un po' più tardi Perché E' Lo scopo di Tsubasa Era lo scopo di Tsubasa Quindi Wow Sono in realtà Sorpreso Che siamo già arrivati A questo punto Temevo che si sarebbe Dilungata Aia Molto a lungo Però Aversa sta cercando Altri In ogni caso Quindi E' la Tsubasa E tra l'altro Questa sarebbe La scena Anche del trailer Che è stato mostrato Al direct Di aprile 2015 Eccola qui infatti Me la ricordo ancora Aversa Calmati Ci sono tante persone Così senza colori Che puoi Attaccare Cioè Dovresti stare un po' calma Non attaccarle Che cacchio dico Sì che me la ricordo Questa scena Domande Su perché Si è apparso Un cavallo Che è diventato Poi Robò Niente Non le facciamo E vai Con la boss battle Vai 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 Allora vediamo E ovviamente Ci sono anche Gli amici qua Allora vediamo Li abbiamo già affrontati Questi Sono resistenti Sono deboli Ad ascia Va bene Resistenti però Quindi a questo punto Io proverei Aspetta No Deboli a vento Quindi perfetto Tsubasa può fare Però Proviamo un pochino Qua Non abbiamo fuoco Non abbiamo neanche veleno Voglio lasciare caricare un pochino Qua Anzi Ecco Questo si può fare Vai Ho fatto bene Mi sa eh Vediamo quanto fa lui 40 Perfetto Ho fatto benissimo Ho fatto benissimo Ok quindi Vediamo un attimo Oh oh Giusto Giusto No No non sono a cavallo Eh lei però si In effetti lei si Dovrebbe Cioè Ah no aspetta Vediamo No È considerata comunità Non a cavallo Va bene va bene va bene Un attimo Che devo controllare una cosa Un attimo Ok Rieccoci Quindi 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 vediamo Ah giusto abbiamo detto Che questi qua No non sono deboli No Vabbè Prima approccio con Versa va Andiamo Vabbè Veleno 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 Hai veleno Eh questa è una battaglia Importante per Per Tsubasa Quindi giusto Vento 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 allora Vento Aspetta che lo facciamo A questi qua Subito Non che abbia fatto molto Però Aia Versa Cos'è che sei Scusami non ho capito Sei per caso gelosa Aia Invidia Invidia nera Addirittù Cos'è che fa Invidia nera Cos'è che fa No è Quella è una faccia Che voglio proteggere Quindi Aversa Stai ferma Quindi l'effetto Qual è l'effetto Qual è l'effetto Cos'è che ha fatto Che significa quello Cos'è che ha diminuito Non lo so Non lo so Ahimè Allora Vediamo Cleave No 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 Non sappiamo però Con Aversa No Non ha fatto Debole A A Spad 65 Ah 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 Quindi vediamo Un attimo Ma io direi Sì Ne facciamo Uno Così ci liberiamo Dai Dai Va bene Dai E poi cariciamo Anche gli altri Ce ne avremmo anche Un altro Di riserva Però non subito Ah E questo se ne va Una bella session Perfetto Alla grande Così Così si fa Aia No 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 Devo riportarle in vita Devo riportarle in vita Ok Meno male Non ha fatto tanto Quindi subito Getto Revival Cacchio però La mirata Ah forse ho capito cos'è Invidia nero Oscura Per mirare Cioè praticamente tutti gli attacchi No 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 Non lo so Non so l'effetto di invidia oscura Purtroppo Allora Forse il fatto che Fa in modo che Tsubasa tira a sé Tutti gli attacchi nemici Forse Quindi abbiamo Sì o non lo sappiamo Ancora cosa fa Quindi vediamo E' debole A fulmine Perfetto Cosa buona Aversa comunque Sia impiega un bel po' Aspetta No No E che cacchio E non è possibile però Diamine Dobbiamo fare qualcosa Per Tsubasa Allora Perché non posso andare Va bene che ne ho un bel po' Però No Accidenti Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato completamente Perché Perché Vabbè ne ho altre Vabbè Questi ne ho Però più che altro Che cacchio E però non mirate sempre Tsubasa Vi prego Ok Ancora gelosa Basta Gelosa Basta Non ha Tsubasa Ah ok Adesso ho capito che cosa fa Quindi possibilità di attacco E di Schivata Non l'avevo letto prima in effetti Quindi Con invidia nera Diminiscono La probabilità Di attacchi Vincenti E di schivate vincenti E È un problema È un problema Ed è anche Debole Fa la session No Meno male che non fa la session Meno male che non fa la session Ok Ah no Quindi prima Tsubasa Solamente le schivate Purtroppo le ha subite Allora Quindi Eh io direi proprio Raccuccaggia Ma di quello forte Che aumentiamo la difesa Vai 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 Sì Aumentiamo anche l'attacco A questo punto Anzi no Prima forse è meglio Concentrarci su di lui Sì Meglio 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 Ok Peccato che non faccia Ancora abbastanza Ah cacchio Allora Cos'è lui è Debole Anche a fuoco Per caso Sì Debole anche a fuoco Così Lo eliminiamo E poi Attacchiamo anche lei Perfetto Vai 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 Subito Subito Aia No 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 Madonna Madonna Quanto fa Comunque Madonna Meno male Che è rimasta Soltanto lei Allora Quindi Sì Ok Sì Però Il bello è che ho anche Avevo anche la difesa Attivata Cioè Scusatemi Ma è un casino Mamma mia Bisogna bloccarla In qualche modo Allora Poi Vediamo Tarukagia A questo punto Lo facciamo a tutti e tre Sei rimasta la sola Comunque aversa Ti avviso Non mi dire che De Au Ah Au Allora No Attacchiamo prima Con lui Quindi Sì o no Ah no È debole Perfetto Giusto È debole È debole Però ci vorrebbe un modo Per Perché così Ci vuole molto tempo Allora Aspetta Tipo Come una Dell'SP Ad esempio Quindi vediamo No 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 Dove Che sta No Non è questo Il momento No No Allora Vediamo Dove Vabbè Uno di questi Per Itsuki Basta A chi stavolta Toma No Di nuovo Ad on Cos'è che ha fatto Ah no Ok Ah quindi Noto che effettivamente Visto che avevo Sia la difesa Penso che Avessi sia la difesa Che l'attacco Aumentati Quindi L'abilità Di Ah no No perché Stavo pensando Che effettivamente Prima Quando l'ho fatta Tsubasa Ha diminuito soltanto La capacità di schivate Questo forse perché Tsubasa aveva anche Attivato Sì se non sbaglio No Volevo dire Tsuki Aveva attivato anche La difesa aumentata Questa volta però Quanto pare È stato talmente Tanto No non è per quello No sto ripensando Un secondo della battaglia Deve essere perché Il Tsuki poi È stato Vabbè lasciamo Non lo so Sto ragionando sul fatto Sul perché Il Tsuki abbia adesso Anche sia la schivata Che la difesa abbassata E stavo pensando Che magari Poteva essere perché Quando l'ho fatto Tsubasa la prima volta Tsubasa aveva anche La difesa in su Aumentata Quindi si è cancellato Con il difesa in giù Dell'attacco Della Dell'invido scura Di Aversa Si è annullato Questo perché Mi stavo ricordando Che Il Tsuki Fosse presente Anche durante L'ultima sessione In cui ha attivato Lui stesso L'aumento Della difesa Però Visto che è morto È probabile Però mi so Che è morto Poi dopo E quindi Se l'è tolto Effettivamente È per questo Che abbiamo anche La difesa in giù Una piccola digressione Così a caso Per ragionare Per capire Per pensare Magari La prossima volta Però la tengo Tra meme Lascio D'altre parti La polemica Tra me È sottoscritto Ok Quindi Allora 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 Quindi attacco E vabbè Resistente ovviamente Abbiamo detto Qua Non abbiamo capito bene Però le altre Quindi direi A questo punto Di provare un pochino Con Una sciata Ne abbiamo due Quindi proviamo Un attimo Non è debole Però bello Come lo lanci Senza Che balle Che balle Che balle Ovviamente Che balle Vabbè subito Facciamo subito Facciamo anche qua Ok Non è ancora neanche Un quarto di vita Però intanto Possiamo fare anche questo Quanto hanno di SP Ancora abbastanza E' Zuki Che ne ha bisogno Un po' Quindi vediamo Dov'è che sta Eccolo qui Quindi subito Dovremmo essere in grado Di eliminare almeno lui Vai Peccato che Ah Almeno No 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 Madonna Vabbè La session è inutile La session è inutile Ma vuoi capire In effetti Com'è che è ancora in vita Quel cacchio di No No Non subito Vediamo Almeno Fai anche all'altro Ok Ho paura Dell'attacco Ok Va bene Va bene Va bene Quindi Dov'è che sta Ne abbiamo altri Eh Facciamo così Ho paura però No Nonosan E che diamine Adesso di nuovo No Non c'è Accidenti O devo riportare in vita Un'altra volta Ci deve essere un modo Per farla più rapida E a tal proposito Ora che ci penso Dato che ci siamo Allora Dobbiamo utilizzare Adesso sì Adesso utilizziamo Quindi abilità Oh Questa sì Quindi Attacco Pesante Su tutti I nemici E ripristina anche Il party L'HP Del party Per tre turni Subito 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 Immediatamente Ok Ancora gelosia Almeno non è un attacco Però purtroppo Diminirà È sempre Sempre Di Zuki È già la terza volta E che balle Quindi muore No giusto Perché non è Session No Meno muori Niente Session Purtroppo Non abbiamo più Altri Ah forse Perché ha due Però va bene Va bene Va bene Nel senso che Posso poi eliminare Questo qua Non ancora A lei direttamente Allora a questo punto Beh Ok Poi San Così Stiamo più tranquilli Ok Facciamone un'altra A questo punto No Di quelle belle Così Combiniamo un bel po' E attacchiamo anche lei Ok Vai Aia 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 Muore Mamma mia Che attacco Mamma mia A quanto fa male Almeno Non è che ne abbia Poi così tanti Potrebbe essere problematico Devi utilizzare uno Di questi Icepack Avere la vita Per tutti Tanto attacca Di nuovo Non morire Ok Meno male Perché comunque Mamma mia Però quanto fa Mada 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 Sì Ah Non sappiamo Ancora il vento In effetti Ok Siamo a metà Siamo a metà Vita Ecco Che si ripristina Un po' di vita Ok Va bene Fuoco Resistente Veleno Non lo sappiamo E veleno No Non me la sento Mi sento più di chi Anche ad aiutare Il povero Itsuki Che ha poca vita No Aspetta Ma sì Va bene Ah Ciao Benvenuto Scusa se non ti ho visto Sono arrivato Sono al boss La boss battle Con Aversa Che è quella Che è il miraggio Che controlla Vaia E sono A metà vita Di Aversa E Un po' Lunghetto È il secondo boss Vero e proprio Però Mi sta dando Qualche difficoltà Buono Si prospetta bene Per la prosecuzione Nella serie Però no Un po' oltre Metà vita Dai 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 Vediamo Dimmi che sei debole Dimmi che sei debole A A vento Ti prego Sei debole A vento Sì Ok perfetto In video scura Eh sì Sto notando Che sono lunghetti Ma sempre dei zucchi È la quarta volta Ma poveri zucchi Eh ovviamente Che balle Ovviamente Però almeno vuol dire Che no Attacca prima lei Quindi devo fare subito Con i zucchi qualcosa E che posso fare Con i zucchi Perché ahimè Nel senso che Purtroppo Ha le mani No non posso neanche Vediamo Cosa che Aspetta In effetti Ho delle frecce Sono debole a frecce Questi qua Penso Dovrebbero essere Debole a frecce Per forza Sono debole a frecce Quindi possiamo Non possiamo attivare niente Però almeno Attacco in qualche modo Vai Che cacchio Manca la session Che si attivi Con le frecce Però possiamo fare qua Fuoco Andiamo a tre Subito Non muore subito Mannaggia Contro I zucchi Ciao I zucchi È stato bello Vai La session Inutile La session È inutile E ti lasciamo morto Per un po' A questo punto Perché Non abbiamo molte Cioè Quanti è che ne abbiamo Una Non posso sprecarla E allora A questo punto Almeno eliminiamo Questo Questo qua No 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 Sì Sì Tsumasa Sì Sì Bene Poco danno E beh Perfetto Bene Fuoco Quindi Eliminiamo Lui E poi Andiamo Ad attaccare L'altro È eliminato Inchia Quanto ci vuole Vai Poco 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 Adesso Un altro Contro chi Contro chi No Contro Tuma E Tuma Resiste Ok Va bene Riusciamo A eliminare No In realtà Mi sa che Non riusciamo Ad eliminare Quindi Mi conviene Fare una cosa A questo punto Io direi Tarukaggia Mi sa che Rischio Un po' Eh No A questo punto Meglio fare Una cosa Quindi Facciamo Preferisco Tanto Rimarrà Per un po' Ok Gelosia Perfetto Così Almeno Vuol dire Che Oh Atoma Cacchio Quanto Gli fa Ok Meno male Meno male Tuma Difesa Meno male Tuma Difesa Nonostante Abbia L'abbastamento Di difesa Perfetto Ok Quindi Vediamo Visto che Ho l'attacco Rinforzato Vediamo Un pochino Adesso No Ma no No Tuma No Ghiaccio Gli fa Ma E adesso Saremo in due Perché non Abbastanza Non Abbastanza Mi sa Che devo Che devo Rifare La battaglia Se avanti Così Però Prima Devo andare A comprare Un po' Di cose Ok Tanto Adesso Almeno Liminiamo Come facciamo Liminare Dobbiamo per forza Chiamare Con l'ultimo Che c'è rimasto Itsuki Ok Almeno E che Non sono Debole Al zio Mannaggia Allora Facciamo Una cosa Prima Subito Almeno La teniamo Un po' In vita Almeno Eh Non ha Ancora Abbastanza Ok Non ha Però No Sì Vabbè Con itsuki Come facciamo Da solo Itsuki Vai 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 Anche Session Ah beh Comunque Mi sa che ho capito Le prossime volte Devo Andare Di Di difesa Per quello Che subisce Sì Ho capito Devo andare Di difesa Per quello Che subisce L'abbassamento L'attacco Dell'imida Oscuro Altrimenti Non si può Fare Quindi 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 Eh Vado a cacchio Perché tanto Tanto sono da solo Ero arrivato anche abbastanza vicino Anche abbastanza vicino Perché non posso Sprecare così tanto Ok Avanti dai su Ciao ciao Anzi io direi di provare Prima Solamente qua la difesa Difendendo E poi Magari un'altra volta Vedere se è necessario Comprare un altro po' Caricare Madonna Andiamo Perché non posso Morire così tante volte In realtà Non ho abbastanza Solo che devo Non devo morire Così 300.000 volte Ok Che valutità Mi domando perché non si possono saltare Anche queste altre parti dei filmati Perché posso capire il momento della scelta Ma il resto Si potrebbe anche Si dovrebbe anche poter dare la possibilità di saltarlo Ok iniziamo Allora Facciamo subito in effetti qua Il che è anche giusto perché questi qua attaccano È grande Toma che evita pure Vediamo che debole E meno male che ho messo la difesa Meno male che ho messo la difesa Subito Ok a chi lo fai questa volta Andiamo a Tsubasa A Tsubasa ovviamente E per forza di cosa devo mettere difesa a questo punto Difesa Quindi vediamo un attimo Che cosa può fare a questo punto Vediamo No 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 Questo qua no È un attacco semplice allora Almeno faccio un minimo di danno 23 proprio niente Però va bene Ok Ok Perché non difendevo come un imbecile prima? Eh? Oppure devo ancora difendere in effetti Perché no poi arriva lei Giusto Ancora difesa Difesa Però questo non vuol dire che Non possiamo fare questo Dov'è? Eccolo qua No cacchio no Non è ancora morto completamente Lo Tsubasa Uh Ok La difesa fa Odun Odun Ce la fa di niente Mio dio povera Mio dio Mio dio povera E mi sa che bisogna fare Un No Rakukaja Un altro Rakukaja Così ripristiniamo anche la difesa Anche E poi soprattutto L'abbiamo qua no? Sì dai Ovviamente attacca sempre lei Oh Quanto no Ce la fa? Per niente ce la fa C'è di pochissimo Volevo dire Mamma mia Allora Quindi sì Di nuovo eliminiamo almeno Quello là Almeno ne abbiamo Uno in meno Il critico però Inutile Scusami Toma Cioè era morto E che cacchio No questa volta Invece facciamo un bel dia Oh Perfetto Ah Ha finito l'effetto Ok perfetto Quindi Posso anche Divertirmi Con Questo Ovviamente di nuovo Eh però cacchio C'è un problema Perché adesso Meno male che la difesa Toma 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 Però difesa Eh vabbè Vediamo Ok Grande Toma Grande Toma Quindi Poi Uno zio Lo faccio Eh sì Iniziamo un pochino Ad attaccare Ad attaccare anche lei No Un minimo Veramente minimo Comunque Ok Ok ancora Dovremmo riuscire Forse Essere in grado Di eliminare Ti prego Dimmi di sì Ma che diamine Uffa Uffa E no Tra l'altro Ho messo anche Vabbè Speriamo Che riesca A sopportare Speriamo Speriamo Non potevano Attaccare Però Un bello Sun Così poi Magari Attacchiamo Anche lei Un attimo Ok Attacchiamo Lei Forza Ok Adesso attacca No 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 È debole Anche Uuuuh Uuuuh Di niente Subito Ok Difesa Toma Però abbiamo Anche per fortuna Ora Tsubasa Che ci permetterà Di avere più attacco Anche Via Non questa volta Cara Quindi Direi Direi Sì 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 Che si inizia Anche la session Così Perfetto Andiamo Bel danno Anche Oh Bel danno Bel danno Perfetto Diventata Anche Debole Ok Allora Facciamo Così Sì Sì Perfetto Va Benissimo Ok Oh Sì È anche Difesa A questo Punto Vai No Come No Io pensavo Che No In realtà Avevo ragione Io Perché è Ancora Con Toma Oh L'ha L'ha Fatta Le Satsubasa No Rinforzo Ovviamente Però se ne sta per andare Al prossimo turno Ok Quindi Un attimo Perché a questo punto Dobbiamo fare No Un altro No Aspettiamo un attimo Quindi Quindi in effetti La difesa La rireinforziamo Poi andiamo L'attacco aumentato ancora Perfetto Eh cacchio però Non male davvero Siamo Non siamo lontani Dalla metà Quindi Partiamo da lui Ok E ovviamente Contro Tsubasa Oh Subito No io non tolgo La difesa qua Mi dispiace Però Cioè in realtà No 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 Non la tolgo Non la tolgo Fino a quando Non Non termina l'effetto Non la tolgo mica Ok Quindi però Possiamo fare questo Ok Ancora 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 Dai che lo eliminiamo Almeno questo Dai su 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 Ok Perfetto Uno se n'è andato Meno male Col cacchio Quella tolgo Ok Quindi vediamo Un secondo Tsubasa Credo che possa Ancora resistere Per un altro Quindi aspetta Allora facciamo Cos'è che possiamo fare Ah giusto No 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 Uno zio Perché Lei è debole Ai fulmini Quindi si si può fare Ok Andiamo subito Critico qua ci stava Grande Grande Toma Ok Siamo metà vita qui Se ne sta per andare qui Quindi Credo che lei Farà un altro Di quegli attacchi A questo punto Vi invidio scura A questo punto Posso anche Provare Ok Cioè Più che altro Ok quasi Lo sapevo Altri in video scura Perfetto A chi la fa questa volta Aizuki Ah Aizuki che viene Non direi di andare Andiamo sullo stato sicuro Ok quindi Session Session Difesa E poi adesso Però No 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 Giusto No adesso Dobbiamo Aumentare Vediamo Sì Sì Perfetto Mi dispiace C'è la difesa qua Madonna Meno male Meno male Meno male Meno male L'ha fatto quasi secco In un turno solo E ovviamente Difesa ancora Fino a quando Continua così Quindi direi Cos'è che dobbiamo fare qua Ah sì Prepariamoci comunque Per dopo E poi Subito Molto meglio Alla grande Non avere rinforzi Brava 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 Ah posso fare qua il cambio Non me la faceva fare Ah no non ancora Quindi come pensavo Quello sì Solamente quando avrò altri membri Se giusto Giusto Quindi andiamo di abilità Vediamo Zio Ma Tsubasa prima stava salutando Durante la battaglia Tsubasa però Concentrati No cioè Mi piace che tu sia così Giovale però Così felice Così Piena di vita Però Salutare così Mentre abbiamo Un essere Un essere Delle tenebre Forse in realtà È meglio così Dai dai Forse ha ragione lei Tornando alle cose Serie Vediamo un attimo qua Quindi Resistente Come prima Quindi Zio Facciamo zio Allora E approfittiamole Ok Quindi Zio Ok va bene Che abbiamo anche L'attacco rinforzato Quindi tra l'altro Con Tsubasa Adesso facciamo Zanang Che non ci sono No Ah no Sì 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 Invece Vai Ok Ok Vediamo L'abilità No La teniamo per dopo Quindi a questo punto È debole A che cosa È ovviamente Resistente a fuoco Quindi Vediamo Magari No Non è considerato Unità a cavallo Quindi In video Oscuro Questa volta Dico Toma Toma Ed ecco gli altri Rinforzi Come immaginavo Come immaginavo Ok Quindi 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 Toma Subito in difesa Aspetta Aspetta Magari Quando non sarà Un potenziale Bersaglio di attacchi Molto forti Izuki Però sì Quindi Ok Dai su Proviamo Wella Sì 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 Dai 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 Alla grande Alla grande Alla grande Alla grandissima Alla grandissima Direi di provare una bella Zan 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 Mi dispiace Però farà 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 Ok Meno male Meno male Però adesso avremo anche l'altro attacco Go Uh Difesa Ma direi scusate Un altro E l'eliminiamo Dai su Forza 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 Dai Dai che è andata Su E' andata E ho anche abbastanza Oh Vai di grande colpo Tra l'altro questa volta ho abbastanza Hpc Ho abbastanza punti per poter fare l'attacco speciale Penso Perché mi ricordo Vabbè da notare come stiano già festeggiando Però dico per l'appunto che L'altra volta quando ho fatto il boss Quello di metà dungeon Non avevo abbastanza punti per la parte finale Quindi forse adesso ce l'abbiamo Guarda Versa Noi saremo comunque pronti Ragazzi La mettiamo a tacere o no? No Va bene Forse non lo fa con il boss di fine dungeon Non lo so Vai 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 Tutto di più Level up Nuove abilità Vai 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 Ammazza 12 in più di vita per il su Che tanto Non molto per le statistiche Però mi accontento Quasi niente per le statistiche Averò perso base Che cacchio Però ottimo per la vita Eh sì Tom è quello di Fortunato Nonostante la sua fortuna Sia nella norma Vai di abilità invece per gli altri Quindi perfetto Aumento di magia di 2 Perfetto È certo che è ok Quindi è tempo di fare un'altra Unity Anche mi sa per tutti in effetti Sì 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 Anche per Caino Ok Caino ancora no Ha bisogno Ancora Ha ereditato tutto quanto Dalla Dalla Unity Oh liberi Tutti quanti liberi Ed Aya però Scusate E lui Ah Che bel sole E Itsuki invece sta pensando Itsuki pensa Eh beh però Itsuki scusami Li vedi anche tu Quelli là Che erano una volta colorate Che ora sono grigi No Eh sì Oh Aya E c'è anche Kiria Ammazza Si è ripresa subito Cioè Scusate Non avevano detto Che si sarebbe ripresa Dopo un bel po' di tempo Quanto tempo è passato Allora no Sarà subito E la missione di Tsubasa In questo gioco È finita Però cacchio Cioè ricordiamoci Che non si vedono Da cinque anni Perché Che Tsubasa All'epoca Aveva tredici Cioè pensate un pochino Allo sconvolgimento All'emozione Cioè Ci sono macchine Cioè è bello Vedere comunque Delle macchine Che vanno tranquillamente Mentre qua si è scatenata L'apocalisse Con persone a terra Prive di sensi Una per Un fantasma Che letteralmente Torna in vita Eh sì ma Kiria Eh appunto Beh E' stata la sua canzone A far sì che potessimo Salvare Aya Mh Mh Beh in effetti Sono cinque anni Cacchio Come ho detto prima Eh beh Cioè la credeva morta Cioè in realtà Lei Voleva entrare Nell'industria Dell'intrattenimento Delle adoro Apposta per questo Per capire cosa Fosse successo La sorella E devi rivederla così Però ora Che diremo alla stampa Per il concerto Per quello che è successo Effetti speciali Andate a male Ok Grazie Maiko Sì però Allora Se ci consigli Così tanto bene Basta con Barry Sì eh Sì però Piano con l'alcol Tu Oh Ovvero Sì in effetti Perché ha parlato Di invadere il nostro mondo Sì E chi sarà mai Il leader A questo punto Certo Sì però Un secondo Per Tsubasa Perché adesso Lei farà Oh mio dio Kire combatterà con noi Ho arrivato mia sorella E Kire combatterà con noi Potrei anche svenire Cioè in effetti Sono shock Di un certo tipo Ah tra l'altro Ci lascia comunque Il comando Alla faccia di Kire E c'è Reincarnation Che sta Partendo Come nel sottofondo Deve essere strumentale Vabbè Niente Non lo vuole dire Ha parlato Maiko Per lei Ecco Attenzione Nesubasa Ora sta per svenire Oppure Sniffa L'atmosfera Per ricordarselo Sta per svenire O entrambe le cose Magari Sniffa Mentre è svenuta Allora Itsuki Toma Leggete Nesubasa Vi prego O bloccatela Per tutte le eventualità Oh è arrossata Ma le si stanno Ancappannando gli occhiali Oppure No vabbè L'arrossamento Però L'arrossamento Che travalica Il corpo Passa anche Con il Cioè Anche andata Non vedo la Di lavorare con te Ah ma tu guarda Che bel tempo Che si fa Sì in effetti Sì in effetti Abbiamo dato una risposta Proprio molto Come dire No Siamo già abbastanza buoni Così Proprio Da figo Ovviamente Ovviamente E no Scusate Non lo riconoscevo Con Vi siete in modo normale Quindi In realtà Vabbè tre Considerando anche Il ritorno Di Aya Tra i bibi Ah ok ok Quindi Lei vuole tornare Ad essere un idol Però Con calma Quindi Si può fare Con calma Anche per Itsuki E Tsubasa Invece Di avere Berri Alle calcagne Mi è piaciuto Moltissimo Come l'ha detto Pish Posh Povera Tsubasa La famiglia Anche Al lavoro Oh Cacchio Ancora Che cosa vorrà Da noi Allora Allora Ma ecco Allora Vabbè Ovviamente Lei lo fa apposto Però Lezione private Di che? Con calma Sì No Senti Tsubasa Non supporre cose strane Tsubasa No Ma ecco Allora Abbiamo detto Poco fa No Tanto Lo fa per scherzare Vabbè Lo fa ancora Per scherzare Però Ma ecco Continui lo scherzo Ti prego Perché Gli ormoni Poi Occhio Ecco La bossa Di cui Penso Che devo fare Qua Cosa mai Dovrò Decidere Qui Vabbè A parte A parte Le battute A cacchio Voglio vedere In cosa consiste Questa lezione privata Quindi accettiamo Tsubasa Qualcuno Calmi Tsubasa Per favore Ma Ma cosa Ma è partita Così Tsubasa Toma Le dici qualcosa Non sorridere così Toma Fai qualcosa In effetti Ricordiamoci Che Come dire Si è ritrovato A caso Letteralmente Perché Non era neanche Andato lì Per fare il provino Da idol Niente Si è ritrovato In tutto questo A caso Guarda Direi che Forse è meglio Direi che Forse è meglio No Secondo me Anche Tomo Perché sta Sorridendo Da mezz'ora Lui Non abbiamo Il log Qua Ancora Ah ok Va bene Quindi ecco qua Ecco appunto E Beh in effetti Ripetiamo Quindi scelta Quindi magari Ora ci veniamo A Toma Per l'allenamento Sulla recitazione No Più che altro Caramaico Vorremmo soltanto Non essere allenati Da Barry È diverso Vediamo 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 Andiamo con questo Beh Quindi con Toma Ovvero Ecco Tra l'altro Sì diciamo Che anche lei Decide un pochino Quindi Ah certo Certo Ah pure Quindi mi sa Che avremo Fiori Avremo il minuo Allora Penso E tu sei molto Pazza Mi sta fando Una analizzata Che ha fatto qua Il tutto fare L'asso Nella manica Ah poveri Zucchi Un'altra Ma tu avresti Esperienza Di vita Un po' di più Però È anche vero Che Zucchi È vicino D'età Quindi Può aiutare Un aiuto Più vicino E mi sono reso conto Per l'ha dato Della vecchia Maiko In questo momento Che neanche vuole rivelare La sua età Ok Questo è vero Questo è vero Cacchetta a parte Questo è vero Come l'è venuto Secondo la voce Più Più profonda La posa poi Eh beh Direi E lo finiamo così Il capitolo Con questa posa qua Va bene E sì che salviamo Sì che salviamo Quindi il nuovo capitolo È Intermissione Intermezzo Ah no Intermezzo Ah Che cretino Ovviamente Ah no 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 Quindi Topic urgente Da Maiko Ah ecco Ehi Zucchi Ho trovato La tua prima Di missioni Per aiutarti A salire Nello stardom La prima È una lezione Di ballo Con Barry E l'altra Sarà un segreto E io Sarà All'uzume Lesson studio Sai Il posto Dove tu E Tsubasa Avete avuto La vostra Prima lezione Mappa Sì la Conosciamo Tranquilla Barry Dice che Puoi venire In qualsiasi Momento Non c'è Problema Se tu vuoi Camminare Se vuoi Vedere Un po' La città O aiutare Qualche Altra Persona Fino a Quando Non ti senti Pronto A venire A lezione Yeah Oh è un'altra cosa Ho anche trovato Un laptop E l'ho lasciato Su uno dei tavoli Nell'ufficio Penso che ci sarà Di grande aiuto Per tenere un po' Per tenerci in contatto Con tutti Provalo Se vuoi Quando vuoi Ah no Proprio È intermezzo Proprio Eh sì Il La pausa Tra il primo E il secondo Tempo Quindi Questo è un periodo Di tempo Che si chiama Intermezzo Dove niente Di significativo Accadrà Durante l'intermezzo Puoi passare il tuo tempo A fare richieste Delle storie secondarie Puoi anche Terminare l'intermezzo Visitando Nella Ozume Lesson Studio Ah Eh vabbè Si sarebbe Quello che ha detto Izu Ma ecco Però quello Di aiutare gli altri Con i loro problemi Per appunto Le storie secondarie Sono le storie personali Delle tuoi membri del cast Procadiscono Indipendentemente Dalla storia Che viene detta Durante il capitolo E in una storia secondaria Izuki supportere i suoi amici Nello showbiz A seguire Nel loro No meglio Supporterà i suoi amici Nelle loro ricerche Nello showbiz Nelle loro Nelle loro ambizioni Nello showbiz E a rinforzare I legami con loro Una storia secondaria Inizierà quando Un membro del cast Il cui stage rank Abbia raggiunto Un certo livello Ti manderà Un invito Tramite il topic Puoi ottenere Delle skill Nelle storie secondarie Che saranno utili Nelle battaglie E investigazioni Quindi è Altamente raccomandato Farle Quindi Al momento Non ci sono cast member Membri del cast Con cui puoi iniziare Una storia secondaria È raccomandato Che tu Usi Toma In combattimento Per aumentare Il suo Stage rank Ehi Toma Lo userò Sì Bene Direi che per questa sera Eh sì Che ne abbiamo un casino In effetti Qua di Ok Un attimo Che sarebbe Quel coso là Sì Scusa Tsuki Ho digitato male O qualcosa del genere Semplicemente Dimentica Ciò che hai visto Ma Ma Ehi Ho avuto il tuo User di mente del topic Da Tsubasa Se c'è qualcosa Di cui tu abbia bisogno Di cui io ho bisogno Di contattare Di cui ho necessità Di contattarti Lo farò qua Ma che cacchio Ma che cacchio Sì Social link Vabbè Sì Sarebbe Li social link Sì 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 Va bene Quindi poi invece Qua ne abbiamo Una marea Una marea Quindi abbiamo Tsuki Un nuovo carnage Per unity Deathbringer Per Kiria Per Kiria Anche Sì Ok Anche radian skill Perfetto Bene Vediamo adesso Quindi anche Kiria Eccola là Riservata anche Sul Sul prato Barry Basta col braccio Basta Vedremo un po' Domani il casting Quindi salvare Bene Direi che per quest'oggi Va bene così Ho iniziato un po' tardi Chiedo scusa Le puntate di Road to Double Saranno caricate Nei prossimi giorni Sì chiedo scusa Però sto lavorando Ho anche un video Quindi sono nelle fasi Finali di montaggio Un video di Smash Brothers È dedicato a Bylet E sono in fase Di montaggio finali Quindi devo vedere Se riesco domattina A pubblicarlo per davvero È per questo Che non sono riuscito A caricare Come avrei voluto I video di Road to Double O meglio A mettere su YouTube I video di Road to Double Come avrei voluto Spero di fare Veramente domani Dopodomani I video di Road to Double E domani Veramente Questo video è dedicato a Bylet Un'altra produzione Originale di Marco Place Dopo quella delle previsioni Voce da figo A caso a parte Ringrazio tutti coloro Che hanno visto La puntata di questa sera E spero che nel caso Lascerete il follow E spero che seguirete Anche la puntata Quando sarà caricata Anche questo Prima possibile Su YouTube E nel caso I video vi piacerà Spero che lascerete Anche il like E ci vediamo Alla prossima Questo schermo Così Mi ammazzerà gli occhi E ci vediamo Alla prossima E ci vediamo Alla prossima